ciao ragazzi e ragazze cosa mi hai preso qui? ragazzi questo qui è il nuovo gratte vinci eh? no ragazzi la spinge d'oro ecco questo è nuovissimo ruovissimo mamma dove l'hai preso dai miei amici non l'ho mai fatto ma tu sei capace a farlo? eh dobbiamo leggerlo prima eh mamma spero di fare la foto dobbiamo leggerlo ma hai visto che pelo che c'ho? guarda che pelo gattoso non è stato il gatto che c'era in giro fuori prima? no come? ragazzi venite con noi devo farlo luce però eh perché se no non lo so leggerlo sì adesso un attimo perché un momentino ma fagli vedere guarda ragazzi allora praticamente io c'ho questi e lui c'ha questi perché adesso ha fatto la catarata vede benissimo da lontano non ci vede più un cacchio da lucino quindi la visita ce l'ho tra un bel po' ma ne ho detto per andare a riprendere il lavoro tu devi mettere su questo qui tanto da ingrandire un po' poi faremo quelli giusti abito? ragazzi venite con noi allora eccoci qui sfinge d'oro eh vai e tagliamo il primo perché il gioco qui è nuovo eh ah ok allora gioco numero uno ok se trovi due simboli uguali vinci il premio indicato se trovi tre simboli uguali raddoppi il premio indicato ok allora partiamo con l'uno con l'uno vediamo dobbiamo trovare due simboli uguali o tre eh sì ok la prima faccia brutta qui c'è sotto la faccia brutta la pepita la pepita seconda anello aspetta che sta sfocando un po' eh aspetta un paolo aspetta 200.000 euro di teletano ok vai terzo palma quella palma de mallorca adesso arriva il cammello questo cos'è monete monete l'ultimo dai ma era un bel anello cammello no ma il cammello l'ho detto io ma non c'è un tubo ma non ce l'hai niente premio cos'era? 3 miliardi dai va bene vediamo il gioco numero due il gioco numero due è allora se nei tuoi numeri trovi uno o più volte uno o più numeri vincenti vinci il premio o la somma dei premi corrispondenti questo è come tutti gli altri dai aspetta eh vediamo allora numeri vincenti primo numero 13 ok il becca morto 32 oh mia mamma la mamma 50 oh i nostri numeri belli questi qua la fisarmonica fisarmonica la sdraia la sdraia il battipanni ma no 44 lo sgabello mamma mia allora vediamo adesso dobbiamo trovare questi numeri qui ok pronti prima piramide 33 guliani de cristo 32 33 28 che miseria monte dei paschi monte dei paschi 34 oh questo è la mia zia margherita il radicchio 48 il morto che parla il morto che parla 20 eh sì 50 46 il valentino rossi siamo 36 siamo 36 55 i miei anni i suoi anni sì più uno no a giugno eh 53 giusto 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 bagliato 29 52 52 orca miseria 47 è il monopattino dai 40 la tempesta 43 il buco della serratura 13 13 c'è oh 13 non l'avevo 20 20 qui così 13 20 vediamo se 0 scusate la parola che si può dire boh dai andiamo avanti 20 16 no c'è il 13 ma ultimamente veramente 23 32 l'invertibile allora adesso guardiamo il gioco numero 3 che usa lei allora aspetta leggiamo se trovi due importi uguali vinci di quell'importo allora c'è piano perché mi fai sfocare il teletro primo importo aspetta che mi si sta sfocando il telefono 100 mila 100 milioni 100 mila 100 milioni 100 mila euro 300 eh sì le belle balle 100 mila e cosa c'è e cosa è il 100 ah no cos'è quello là 10 mila ma scusa il primo non è uguale al terzo il primo è il 100 scusa mi fanno vedere bene mancano 0 qua in fondo ah porca miseria niente dai 20 euro dai 20 euro siamo tornati in riga dai ma guarda vinciamo sempre va bene va bene dai recuperato ancora uno in attivo di uno veniamo di là no ragazzi ragazzi la stringe d'oro ha portato i suoi frutti eh 20 euro ma guarda li hanno sempre fortunati sì ma non riusciamo mai a beccare un 100 fai niente ma cavolo scusa il 20 euro sembra abbiamo pagato 10 10 e abbiamo niente no ma che culo 13 il 13 per te che guardo bene mi chiedi sbagliato no no non ho sbagliato 13 13 20 euro boom dai questo mese è andato dai bellissimo se dietro la coca cola è la fanta vedete si vuole ubriacare se volete provare la stringe d'oro è nuova è una novità è una novità ok questo è nuovo un abbraccione un bacione e viva l'amore col mio gatto peloso è un parrucchino geloso spinge d'oro alla prossima